Buongiorno a tutti, Francesca Fossatelli, responsabile Public Distribution Italia di Fontobel. Vi do il buongiorno e iniziamo questo nuovo webinar in collaborazione con Gabriele Belelli, sempre focalizzato sui bonus e bonus cap certificates. Saluto intanto Gabriele Belelli che non ha bisogno di presentazioni. Ciao Gabriele, buongiorno. Buongiorno a tutti, ciao Francesca. Iniziamo direi, faccio una piccola presentazione dei nuovi prodotti perché oggi sono partiti dei nuovi bonus cap e poi scopriremo con Gabriele come funzionano questa tipologia di prodotti. Vi invitiamo ovviamente sempre a fare qualsiasi domanda all'interno del webinar o anche post webinar, quindi alla nostra mail certificati-fontobel.com. In ogni caso interrompeteci nel caso in cui avete domande. Vediamo subito chi siamo, questo webinar in collaborazione con Fontobel. Fontobel è uno dei principali emittenti di certificati e coverage warrant in Italia ma anche in Europa. Abbiamo oltre 1200 coverage warrant quotati sul CEDEX di Borsa Italiana, 377 certificati alleva fissa su cui abbiamo la gamma più ampia sul CEDEX di Borsa Italiana, 20 tracker certificates, due certificati strategici, quindi a gestione attiva e i 17 bonus e bonus cap certificates. Come emittente siamo un emittente stabile da un punto di vista di rischio di credito, siamo molto solidi, abbiamo un rating di Moody's di A3, attualmente il più alto sul CEDEX di Borsa Italiana. Perché inserire i certificati in portafoglio? Non solo per uno dei motivi principali che è appunto quello della fiscalità agevolata, quindi tassazione dal 26% con possibilità di recupero di plus e minus valenza, che può essere anche interessante in quest'ultima fase dell'anno, ma anche e soprattutto perché si può diversificare il portafoglio con degli strumenti che danno accesso a delle strategie sui principali sottostanti quotati, quindi azioni, obbligazioni, delle volte i sottostanti possono essere anche fondi, ETF. Queste strategie sono strategie che non possono essere replicate con nessun altro strumento, proprio perché i certificati sono uno strumento unico e flessibile, sono uno strumento liquido, quotato sul CEDEX di Borsa Italiana, in negoziazione continua garantita dal nostro market maker, ed estremamente trasparenti, trovate ad esempio tutti i costi relativi ai prodotti, sia nel documento Final Terms, condizioni definitive, ma anche e soprattutto nel CED, documento delle informazioni chiave. La gamma di certificati Qvontobel va a toccare un po' tutte le categorie di certificati che avevamo visto anche nel primo webinar con Gabriele, quindi partiamo dai certificati a leva, dove abbiamo i certificati a leva fissa, i certificati a capitale non protetto, dove abbiamo i tracker e gli strategici, ma anche i certificati a capitale condizionatamente protetto, dove troviamo i bonus e i bonus cap certificates. Sul bonus cap certificate ci soffermiamo semplicemente sul funzionamento, questo è un bonus cap certificate con bonus uguale al cap, il bonus cap non paga premi intermedi, paga un premio a scadenza, che è il bonus, se il sottostante non ha mai toccato durante tutto il periodo di vita del certificato, quindi dal momento dell'emissione fino alla scadenza, la barriera. Quindi se non tocchiamo mai la barriera, prendiamo a scadenza il bonus. In questo caso il bonus coincide anche con il cap, quindi con il massimo rendimento ottenibile. Abbiamo lanciato dei prodotti in collaborazione con i trader, uno proprio con Gabriele, un bonus cap su Atlantia, con barriera del 70%, scadenza un anno e bonus e cap pari a 107,47%, uno in collaborazione con Tony Scioli-Puviani, in questo caso sul sottostante Enel, barriera del 70%, scadenza un anno, bonus e cap 100,72%, un bonus cap su Mediaset, invece con barriera all'80,62%, scadenza un anno, bonus e cap al 106,8%, e uno su Telecom, sempre con Marco Tosoni, bonus e cap al 104,1%, barriera al 79,51%. Abbiamo dei nuovi prodotti che sono partiti invece in negoziazione proprio questa mattina, costruiti con il supporto di Luigi Piva, che è un trader quantitativo che utilizza un modello, il modello Arima, che è un modello quantitativo, AR sta per autoregressivo, MA per media mobile, moving average, I per integrated. È un modello quantitativo che va a prevedere l'andamento di un sottostante, sulla base di una serie storica, in questo caso una serie settimanale. Sulla base di questo modello previsionale, Luigi Piva ha indicato il livello di barriera, in questo caso su Danone, la barriera è stata posta a 57,5%, quindi il 77,64% rispetto allo strike, e questo prodotto in due anni, quindi con scadenza novembre 2021, paga un bonus di 107,60%. Il secondo prodotto, lanciato sempre in collaborazione con Luigi Piva, anche qui un prodotto ISG, su Total, in questo caso, barriera a 30,001 euro, quindi al 61% dello strike, bonus e cap in due anni a 105,40%. Vi faccio vedere anche gli altri tre prodotti che abbiamo lanciato sempre oggi, un bonus cap su Intesa San Paolo, con barriera al 75%, quindi su 1,7444% di Intesa San Paolo, bonus e cap pari a 109,59%, scadenza un anno. Un bonus cap su E.ON ha il 119,36% di bonus a un anno, con barriera al 90%, a 7,969%. L'ultimo bonus cap su Banco Santander, in questo caso abbiamo un bonus del 115,11%, con scadenza un anno, barriera all'85%, quindi a 3,159%. Vi faccio vedere anche sui grafici presi proprio da Bloomberg come è stata posizionata la barriera sui diversi sottostanti, quindi qui vediamo un grafico di Banco Santander con il livello barriera, il grafico di Danone con il livello barriera, quindi vediamo anche nei diversi grafici come la barriera si va a posizionare, nel caso di Banco Santander, sotto al minimo a un anno, nel caso di Danone anche qui siamo sotto i livelli minimi toccati dal sottostante, su E.ON abbiamo anche qui la barriera sotto i livelli minimi toccati dal sottostante, questo è il grafico di Intesa che probabilmente conoscerete anche molto bene, in total qui siamo su una barriera estremamente difensiva. Oltre a questi bonus cap, come abbiamo spiegato la scorsa volta, abbiamo anche dei bonus cap dove il bonus, il livello bonus è diverso dal livello cap, quindi in questo caso se il sottostante non tocca la barriera, andiamo uno a uno con il sottostante, quindi registriamo in questo caso una performance che è pari a quella dell'andamento del sottostante, ma se il sottostante non tocca mai la barriera, prendiamo il livello bonus, se il sottostante supera il nostro livello bonus, andiamo uno a uno con il sottostante, quindi se abbiamo per esempio un bonus del 10% e un cap del 15%, il nostro certificato, se il sottostante non ha mai toccato il livello della barriera entro la scadenza, ci paga il bonus, quindi il 10% se appunto non abbiamo mai toccato il livello barriera a scadenza e se il sottostante non ha realizzato più del 10%, se il sottostante ad esempio realizza il 12%, noi prendiamo 112 euro, quindi un più 12%, fino a un livello cap, in questo caso avevamo detto il massimo era il 15%, quindi se il sottostante non sale più del 15%, noi comunque andiamo a beneficiare anche della performance, in questo caso positiva in caso di rialzo del sottostante. Abbiamo dei prodotti di questa tipologia, su Intesa San Paolo, Mediobanca, Prismian, STM e Unicredit, in questo caso come vedete il livello bonus è diverso dal livello cap, quindi per esempio sul bonus cap su Intesa San Paolo con barriera del 85%, se Intesa San Paolo non tocca mai la barriera, può stare il 85% dello strike, riceviamo il bonus del 118,35%, ma se Intesa San Paolo ad esempio a scadenza ha fatto un più 20%, noi prendiamo 120 euro, se ha fatto un 25% prendiamo 125 euro, fino a un livello di cap, che è il massimo livello ottenibile che è 136,11%, quindi 136,11 euro, per il massimo rendimento che otterremo a scadenza. Oltre a questo abbiamo anche i certificati della tipologia bonus, in questo caso se il sottostante non tocca mai la barriera si riceve il bonus, se il sottostante realizza una performance superiore al livello bonus andiamo 1 a 1 con il sottostante, senza alcun livello di cap, quindi non c'è limite al massimo rendimento ottenibile. In questo caso abbiamo tre prodotti su FCA, quindi su FIAT, l'assicurazione generali e Intesa San Paolo. Io lascerei a te la parola a Gabriele per andare a vedere anche il pricing di questi strumenti e come funzionano i bonus cap. Sì, perfetto. Ok, eccomi qui. Vi chiedo un riscontro audio-video, quindi vi chiedo se sentite correttamente la mia voce e se vedete il mio schermo... Non sento nessun risconto, Francesca ci sei? Sì, sì, vediamo tutti. Ok, quindi vedi lo schermo e senti la voce? Sì, sì, confermo. Ok, perfetto, benissimo. Allora, parto immediatamente. Allora, buongiorno a tutti, io sono Gabriele Bellelli. Allora, oggi mi occuperò in questo webinar insieme a Francesca di, diciamo così, specificare meglio alcune caratteristiche dei bonus cap. Nel dettaglio, nel webinar di oggi andremo a trattare i seguenti argomenti. Andremo a descrivere, anche se in realtà l'ha già fatto egregiamente Francesca, nel mentre quali sono le caratteristiche dei certificati che appartengono alla famiglia, alla tipologia dei bonus e quindi andremo a trattare proprio i bonus, i bonus cap, i bonus cap con un bonus diverso dal cap, che è l'ultimo caso che ha citato Francesca. E poi andremo a vedere delle cose curiose che sono come viene composto un certificato. Quindi andremo proprio ad aprire la scatola per vedere quali opzioni, quali strumenti sono contenuti all'interno del certificato. Andremo a descrivere quelle che sono le variabili che determinano l'andamento del prezzo di un certificato e cercheremo di capire qual è l'ambito di utilizzo dei certificati che appartengono a questa tipologia che è appunto quella dei bonus. Ok, quindi abbiamo tanta carne al fuoco, partiamo immediatamente. Allora, vi ricordo brevemente, i certificati si dividono in quattro categorie, capitale protetto, capitale condizionatamente protetto, capitale non protetto e a leva. Nel webinar di oggi ci occupiamo della tipologia bonus, bonus e bonus cap che rientrano all'interno di quelli che sono i prodotti a capitale condizionatamente protetto. Vuol dire che a scadenza il capitale protetto a patto che non si sia verificato l'evento barriera. Tutti questi prodotti, ovviamente, li avete visti prima, li trovate sul sito di Fonto, per cui trovate i bonus cap e invece qui trovate l'elenco dei bonus. A questa slide in realtà vanno aggiunti quelli che Francesca vi ha appena illustrato come nuove emissioni. Allora, partiamo dal concetto di bonus. I bonus, che cosa sono? Abbiamo detto, sono dei certificati che appartengono alla tipologia dei prodotti a capitale condizionatamente protetto e credo di non essere smentito nel dire che all'interno della categoria dei certificati a capitale condizionatamente protetto, fanno la parte del leone perché sono probabilmente la tipologia più longeva, quindi quella che è stata emessa in tempi più remoti e quindi è quella più conosciuta, è quella più diffusa, è quella anche probabilmente numericamente più presente sul mercato. La prima caratteristica saliente della tipologia bonus è quella di pagare un bonus a scadenza. Il bonus che cos'è? È il rendimento, chiamiamolo premio se vogliamo, che viene espresso in termini percentuali, che viene pagato in questo caso dall'emittente al possessore del certificato, se a scadenza il certificato non ha subito l'evento barriera. Quindi la prima caratteristica della tipologia bonus da cui prendono appunto il nome è il pagamento di un premio chiamato bonus, chiamiamolo rendimento, nel caso in cui non si sia verificato l'evento barriera. La seconda caratteristica della tipologia bonus è la presenza appunto di un livello di barriera, cioè un livello di prezzo sotto il quale il certificato che cosa fa? Perde la propria protezione e quindi in questo caso se si verifica l'evento barriera, cioè se il prezzo scende sotto un determinato livello di prezzo, il certificato ovviamente è collegato a un sottostante, quindi sarà il sottostante a scendere sotto un livello di prezzo, di conseguenza la discesa del sottostante sotto un livello chiamato barriera, ecco che il certificato perde la sua protezione, lo vedremo dopo nel dettaglio, a scadenza rimborserà la performance del sottostante. La barriera può essere continua, cioè attiva tutti i giorni di vita di certificato, oppure discreta, cioè attiva solo a scadenza. I certificati che vedremo oggi appartengono alla prima tipologia, quelli che hanno una barriera continua, quindi attiva ogni giorno di vita di certificato. Questo vuol dire che se la barriera viene toccata anche per un tico, un solo istante durante la vita del certificato, si perde la protezione e quindi vedremo dopo che cosa succede a scadenza. Morale della favola, questa tipologia di prodotto permette al possessore del certificato di partecipare al rialzo del sottostante e quindi permette di ottenere, se non si verifica l'evento barriera, ovviamente un bonus, un premio aggiuntivo, in caso di rialzo del sottostante, di andamento laterale del sottostante, oppure di moderato ribasso del sottostante, ovviamente entro il limite della barriera. Quindi è un prodotto che ti permette di guadagnare se il sottostante sale, se il sottostante rimane fermo fondamentalmente o se il sottostante scende ma poco, poco vuol dire entro il limite della barriera, quindi non deve toccare la barriera nel corso della vita. Questa è una definizione molto sintetica e stringata, vediamo un attimo nel dettaglio. Partiamo dalla prima tipologia, partiamo dai bonus con un cap, quindi con un tetto sopra la testa, diciamo così in modo grezzo ma giusto per capirsi. Questa è la struttura che vi ha fatto già vedere prima Francesca, se voi acquistate direttamente il sottostante, ottenete una performance lineare, come appunto è quello dell'andamento del sottostante, cioè se l'andamento del sottostante sale del 10%, guadagnerete il 10%, se il sottostante scende del 10%, perderete il 10%, è quella che è la linea verde che trovate in questo grafico. Se invece acquistate un certificato, se non si verifica l'evento barriera, aveva incassato un bonus, che in questo caso coincide col cap in questa tipologia, altrimenti se si verifica l'evento barriera, partecipate alla, diciamo così, alla performance, in questo caso negativa, del sottostante, quindi di fatto in caso di evento barriera, il certificato diventa un replicante del sottostante. Vediamo un attimo di mettere qualche puntino su lei. Allora il primo aspetto da trattare è il fatto che la barriera, nel caso dei certificati bonus che è una barriera continua, intraday, quindi attiva ogni giorno, ogni minuto di vita del certificato. Se uno compra questo certificato, ha due soluzioni. Beh, la prima è banale, lo può vendere in qualsiasi momento. Ricordiamo che stiamo parlando di prodotti che sono quotati e quindi uno può comprare il certificato, sia in emissione oppure in un secondo momento, quando è già quotato, e può decidere di o portarlo a scadenza, se ne ha convenienza farlo, oppure di vendolo sul mercato in anticipo. È un prodotto quotato e quindi come tale lo può rivendere in qualsiasi momento. Per assurdo lo può vendere anche dopo pochi minuti dell'acquisto, perché c'è sempre un market maker pronto a fare, a fornire liquidità al prodotto. Quindi, ipotizzando però in questo caso, non la vendita sul mercato, ma di portare a scadenza, ecco che una volta che uno ha comprato il certificato e lo porta a scadenza, ripeto, stiamo parlando dei bonus cap, abbiamo fondamentalmente, l'investitore si trova a avere due scenari davanti. Il primo scenario è quello positivo, cioè la barriera durante la vita del certificato non è mai stata toccata. Quindi la barriera da parte del sottostante non è mai stata violata e quindi l'evento barriera non si è verificato scenario positivo. Scenario negativo, la barriera è stata toccata nel corso di vita del certificato. E quindi l'evento barriera si definisce che si è verificato. A questo punto cosa succede? Perché abbiamo due scenari diversi, uno positivo abbiamo detto e uno potenzialmente negativo. Partiamo dal primo, partiamo da quello positivo, cioè la barriera non è mai stata violata. Ecco che in questo caso cosa abbiamo? Abbiamo che la protezione del capitale è rimasta intatta, perché se vi ricordate i bonus cap appartengono alla tipologia di prodotti a capitale condizionatamente protetto, vuol dire che il capitale a scadenza è protetto a condizione che non si sia verificato l'evento barriera. Quindi in questo caso non si è verificato l'evento barriera, la protezione resta intatta e quindi di conseguenza il certificato vi rimborsa 100, che è il valore nominale, in più vi paga il bonus, ad esempio l'8%, quindi vi restituisce 108. Io qui ho segnato valore nominale e ho messo tra parentesi 100, perché? Perché alcuni certificati a volte sono emessi non a base 100, ma a base 1000, ma il ragionamento è esattamente lo stesso. Quindi il certificato rimborsa il valore nominale più paga il premio, più paga il bonus di ad esempio l'8%, il 9%, il 12% a seconda del singolo prodotto. Quindi un discorso molto semplice. Se invece la barriera è stata toccata, allora che cosa succede? Beh, innanzitutto abbiamo detto che essendo prodotto a capitale condizionatamente protetto, se l'evento barriera si verifica, il primo effetto del toccare la barriera è quello di far venire meno la protezione del capitale a scadenza. Quindi nel momento in cui la barriera viene toccata il certificato perde la sua protezione e cosa fa? Comincia a replicare in modo lineare quella che è la performance del sottostante a cui il certificato è collegato. Per calcolare a scadenza quale sarà il prezzo del rimborso, dopo facciamo degli esempi concreti, il rimborso, dicevo, del certificato si applica a questa formula. Prezzo finale del sottostante diviso lo strike, cioè il prezzo iniziale del sottostante moltiplicato per 100 e vediamo dopo che cosa ci può saltare fuori nelle varie simulazioni. Un esempio è questo bonus cap con sottostante Enel. Cito questo in mezzo ai tanti che sono diciamo così quotati da Fondable per un motivo l'abbiamo già citato la volta scorsa e l'ha creato un mio amico Tony Ciolli Pioviani quindi riprendo a farvi questo esempio però non è proprio un consiglio per gli investimenti non è che Di Bellelli dice di comprare questo valutatelo per il vostro caso specifico a cui io ve lo presento come caso studio. Quindi vedete questo è un bonus cap con sottostante il titolo Enel vedete qui trovate il nome del prodotto fondamentalmente qui trovate il codice AISEN qui trovate il prezzo del market maker vedete il prezzo in denaro il prezzo in lettere qua sotto trovate anche la quantità di denaro che ha all'interno del book questa è un'immagine che ho fatto la scorsa settimana quindi il prezzo di oggi sarà differente ma proprio per il motivo che le slide ho preparate qualche giorno fa. Qui in quest'altra pagina presa dal prospetto trovate tutte le altre caratteristiche del prodotto vedete sempre quello dice AISEN sottostante il prezzo di emissione 100 trovate il valore dello strike 6 euro e 745 da parte del titolo Enel ovviamente perché questo è un certificato che ha come sottostante Enel poi trovate il livello del bonus 108,72 trovate il livello del bonus 108,72 quindi in questo caso vedete bonus e cap coincidono trovate il livello della barriera cioè il 5 euro e 396 che vuol dire una barriera all'80% la barriera all'80% vuol dire che è più bassa del 20% si legge al contrario mettiamola così rispetto allo strike poi vedete abbiamo una barriera continua in 3 day quindi vuol dire che è attivo ogni giorno di vita del certificato e poi abbiamo vedete la data in cui è stato emesso quindi la data in cui il certificato ha cominciato a essere vivo e poi la data di scadenza o la data di morte diciamo così del certificato in questo caso scadenza breve perché settembre vedete fine settembre del 2020 e poi trovate ovviamente l'emittente e il mercato in cui è quotato in questo caso il SEDEX di borsa italiana quindi vedete un protocotato lo potete comprare a negoziare in qualsiasi momento perché vi presento questo dato perché vi voglio spiegare come viene come viene il ragionamento della vita del certificato allora il certificato nasce attorno allo strike quindi si definisce lo strike se vi ricordate l'abbiamo descritto la volta scorsa lo strike è il prezzo iniziale del certificato cioè il prezzo non ho sbagliato mi sono incartato con le parole e lo strike è il prezzo che il sottostante ha al momento in cui il certificato è stato emesso in questo caso il certificato è costruito sul titolo Enel quindi il valore dello strike è il prezzo di mercato di Enel il giorno in cui il certificato è nato in questo caso il prezzo vedete è 6 euro e 745 quindi lo strike è il punto di partenza dal momento che il certificato è lo strumento derivato del sottostante derivato perché è collegato l'andamento del certificato deriva dall'andamento del sottostante questo lo vedremo dopo quando andremo a descrivere quelle che sono le variabili che determinano l'andamento del prezzo quindi si parte dallo strike che è appunto il prezzo che ha il titolo in questo caso Enel 6 euro e 74 quando il certificato è stato emesso a scendere rispetto allo strike viene definito il valore della barriera qui ho sottolineato a scendere perché perché stiamo parlando di un certificato bonus cap cioè un certificato che permette di guadagnare dal rialzo del sottostante se invece stessimo descrivendo un certificato reverse bonus quindi un certificato con implicazioni ribassiste allora la barriera la troveremo a un livello superiore rispetto allo strike ma questo magari lo vedremo in altri video in futuro adesso ci concentriamo su quei certificati che permettono di seguire diciamo così un andamento sostanzialmente rialzista e sottostante quindi in questo caso la barriera è inferiore al livello di strike la barriera è in funzione è calcolata in funzione del valore dello strike in questo caso ad esempio la barriera è un 70 oppure un 80% del valore della barriera attenzione dire barriera al 70% come viene tecnicamente detto in gergo tecnico significa che il livello della barriera è un 30% inferiore rispetto al valore dello strike quindi si prende lo strike si calcola il 70% di conseguenza è come dire la barriera è a un livello del 30% inferiore allo strike quindi si parte dallo strike prezzo di emissione prezzo del sottostante al momento di emissione e di conseguenza si calcola la barriera le barriere in genere più utilizzate sono l'80%, il 70%, il 60%, il 50% oggi in alcuni casi Fontobel ha introdotto una novità tra l'altro se vuoi dire qualcosa da questo punto di vista Francesco perché ha inserito delle barriere tra virgolette anomali diciamo così a volte c'è un 77% o cose di questo tipo se vuoi spiegare tu il dettaglio altrimenti lo spiego io Sì Gabriele infatti noi abbiamo introdotto tra virgolette queste barriere anomali perché la barriera è stata posizionata su dei livelli di prezzo del sottostante specifici quindi in quel caso quando andiamo a emettere nel caso specifico di Fontobel lo strike viene determinato nel momento esatto dell'emissione quindi nel momento esatto in cui nasce il prodotto quindi il prodotto ad esempio lo facciamo nascere alle 10 e mezzo di mattina in quel caso il prezzo del sottostante ad esempio intesa San Paolo è il prezzo intesa San Paolo alle 10 e mezzo della mattina in quel caso il livello barriera sarà una certa percentuale rispetto allo strike quindi se noi abbiamo un prezzo diciamo attuale di intesa di 2 euro e abbiamo un livello barriera ad esempio dell'1,80 in questo caso andiamo a determinare diciamo la percentuale della barriera sulla base dell'1,80 quindi non andiamo a determinare una barriera diciamo mettiamo a caso la barriera l'80% il 60% il 60% perché quel livello di prezzo potrebbe essere non significativo per il cliente ma anche da un punto di vista tecnico quindi i trader diciamo alcuni dei trader hanno scelto o un livello di prezzo standard che fosse sotto al di sotto diciamo del nostro livello se vogliamo di supporto alcuni hanno scelto proprio esattamente un certo livello di prezzo scegliendo un certo livello di prezzo la barriera potrebbe essere invece che del 60% potrebbe essere magari del 59,8 o del 57,3 quindi potrebbe essere un livello che sembra in realtà tra virgolette errato o erratico ma in realtà la barriera è stata posizionata proprio su un livello specifico di supporto perfetto esatto vuoi aggiungere qualcos'altro o riprendo no no puoi andare avanti ok quindi si prende lo strike e in funzione di quello si calcola a un livello inferiore il livello della barriera a questo punto le due caratteristiche principali sono state definite occorre definire la scadenza la scadenza può essere breve ad esempio un anno può essere superiore due anni tre anni eccetera seconda del singolo certificato la caratteristica saliente è che quando noi giungiamo a scadenza se vi ricordate abbiamo una tipologia di scenari possibili che sono l'evento barriera si è verificato oppure l'evento barriera non si è verificato il primo scenario è questo vedete l'andamento del sottostante linea blu linea celeste vedete è sempre stato superiore alla barriera la barriera quindi non è mai stata toccata durante la vita del certificato quindi l'evento barriera non si è verificato e quindi a scadenza possiamo dire primo che il capitale è protetto secondo che il certificato vedete rimborsa il valore nominale 100 più paga il bonus che nel caso del certificato di Ener di prima è dell'8,72% quindi questo certificato che è stato emesso a 100 rimborsa a scadenza 108 e 72 in tutto quindi offre un rendimento dell'8,72% qui ho fatto vedete una simulazione ipotizzando di acquistarlo in un momento successivo all'emissione in questo caso ho fatto la simulazione l'8 novembre il giorno in cui ho fatto le slide il prezzo di mercato se vi ricordate vedete era 101,50 se questo certificato fosse stato acquistato quel giorno a 101,50 e fosse portato a scadenza con data vedete 28 settembre del 2020 quindi da qui a un anno scarso ipotizzando quindi che non si sia verificato l'evento barriera è certificato come vi dicevo rimborsa 108,72 e quindi il vostro rendimento all'ordine annualizzato è dell'8,08,02% se invece secondo scenario abbiamo il sottostante che scende vedete va a toccare la barriera e in questo caso addirittura vedete a scadenza è a un livello inferiore rispetto alla barriera allora a questo tipo siamo di fronte a un caso molto evidente di barriera violata quindi la prima condizione è che si perde la protezione del capitale la seconda caratteristica è che il certificato diventa un replicante della performance del sottostante la terza caratteristica è che per calcolare il prezzo di rimborso occorre diciamo così applicare la formula che abbiamo visto prima prezzo finale del sottostante quindi Enel diviso lo strike cioè il prezzo iniziale di Enel moltiplicato per cento facciamo una simulazione allora immaginiamo che il certificato chiuda a scusate che il sottostante al momento della scadenza del certificato sia a 5,30 euro lo strike era posto a 6,74 quindi che cosa facciamo dividiamo prezzo finale sottostante 5,30 con 6,74 che era il livello dello strike moltiplichiamo tutto per cento in questo caso il certificato vedete riborsa 78,57 e questo è lo scenario però attenzione a un dato questo è lo scenario in cui il sottostante scende tocca la barriera quindi si perde la protezione e poi il sottostante continua a scendere al punto che a scadenza è a un livello inferiore alla barriera ma in realtà potrebbe anche capitare un altro dato cioè il certificato che tocca la barriera durante la vita del del certificato ma poi il sottostante si riprende e a scadenza si trova a un livello superiore a quello della barriera o addirittura si può trovare anche un livello superiore allo strike cosa succede in questi casi beh in questi casi succede un dato molto curioso si scopre l'investitore scopre una notizia positiva cioè quella che l'evento barriera non necessariamente produce un risultato negativo per l'investitore perché perché per calcolare il rimborsa abbiamo detto che si applica la formula prezzo finale diviso prezzo iniziale moltiplicato per cento quindi a questo punto che cosa facciamo andiamo ad applicare questa formula e scopriamo che in realtà il nostro rendimento può essere positivo perché perché in questo caso addirittura ha chiuso un livello superiore allo strike quindi non tutte le rotture di barriera quindi non tutti gli eventi barriera necessariamente vanno a diciamo così produrre un risultato negativo e lo dico perché ci sono molti investitori che vanno a lavorare sui certificati che hanno perso la barriera per andarne a cercare delle inversioni quindi che cosa fanno vanno a a selezionare appositamente a tenere monitorati nel corso del tempo i certificati che sono andati a barriera per poi andarli ad acquistare nel momento in cui inverte il sottostante la tendenza per cercare di sfruttare questo effetto e cercare di incassare il bonus cioè il bonus in realtà il prezzo che deriva da questa applicazione di formula ovviamente entro il capa perché immaginate che il prezzo salga tantissimo se si applica questa formula il rimborso potrebbe essere altissimo in realtà essendo un bonus cap c'è un cap quindi oltre il quale il certificato applicando questa formula non rimborsa però nel caso se terebbe un risultato positivo quindi questo è un dato poco conosciuto ma comunque da conoscere non necessariamente l'evento barriera produce quindi un risultato positivo perché si applica questa formula e quindi il risultato potrebbe anche essere positivo come nell'immagine qui ovviamente sempre dicevamo entro i limiti del cap perché questo è un bonus cap c'era l'altra variante che ha descritto prima Francesca molto bene che era quella dei certificati bonus che però hanno un livello di bonus e di cap diverso la struttura vedete è differente rispetto a prima qui abbiamo sempre il sottostante del certificato vedete la linea gialla è l'andamento del sottostante quindi se uno compra il sottostante ha la performance lineare del sottostante come dicevamo prima se il sottostante fa più 10 guadagnerà più 10 se fa meno 10 perderà meno 10 il possessore del sottostante chi invece compra un certificato bonus cap ma con bonus scusate con cap diverso dal bonus invece che cosa fa beh dipende da come evolve la situazione del titolo perché può se si verifica l'evento barriera partecipare alla performance negativa del titolo oppure può incassare il bonus oppure può incassare la performance del sottostante ma entro il limite del cap quindi in questo caso abbiamo uno scenario in più scenario in più che è dettato dal fatto che il cap è superiore al bonus siamo sempre all'interno di un prodotto capitale condizionatamente protetto quindi siamo sempre a ragionare di barriera una barriera sempre antiva durante tutta la vita del certificato quindi una barriera continua intraday anche qui a scadenza ovviamente anche qui possiamo dire che il certificato può essere venduto prima della naturale scadenza del certificato ma ipotizziamo di portare a scadenza in questo caso per capire quali sono le implicazioni anche qui abbiamo due ipotesi la barriera non è mai stata violata oppure la barriera è stata toccata e quindi abbiamo due scenari di base ognuno di questi scenari però presenta delle caratteristiche che occorre conoscere partiamo dallo scenario positivo quello in cui cioè la barriera non è mai stata violata qui abbiamo vedete rispetto a prima una condizione in più abbiamo vedete tre caselle allora la prima condizione qual è la barriera abbiamo detto non è stata violata e il sottostante a scadenza del certificato ha una quotazione compresa vedete tra la barriera e il livello del bonus in questo caso il certificato che cosa fa rimborsa 100 più bonus quindi mantiene la protezione capitale rimborsa 100 più paga il premio paga il bonus se però il sottostante ha una quotazione compresa tra la barriera e il cap che cosa fa il certificato andrà a rimborsare un importo commisurato alla performance del sottostante se invece terzo scenario il sottostante avrà una quotazione superiore al valore del cap ecco che comunque il certificato rimborserà 100 più il valore del cap quindi nel primo caso rimborsa 100 più bonus nel secondo paga la performance del sottostante che sarà superiore a quella del bonus nel terzo caso rimborserà 100 più la performance superiore del bonus ma entro il limite del cap dopo facciamo un esempio così sarà tutto più Gabriele ti interrompo un attimo c'è una domanda che può essere più per te soprattutto quale sarebbe il vantaggio di prendere un certificato che ha già toccato la barriera rispetto a prendere direttamente il sottostante dato che il rimborso è pari al sottostante stesso allora la risposta è complicata cioè è semplice ma lunga da spiegare allora se per te Francesca non è un problema possiamo rimandarla dopo per non aprire delle tangenti oppure proprio stamattina io e Francesca abbiamo stabilito un webinar da effettuare il 18 di dicembre sarà un webinar dedicato anche alle strategie operative quella strategia che ho appena descritto troverebbe terreno fertile proprio in quel webinar quindi se per te non è un problema ne parliamo alla fine se avanzano 5 minuti altrimenti è un argomento che trattiamo il il 18 di dicembre dimmi se per te va bene per me per me va benissimo ok se avanzano 5 minuti la rispondo volentieri però preferisco continuare per essere proprio coerente nella spiegazione dopo quello ci permetterebbe di aprire una tangente ok dicevo abbiamo questi tre scenari che sono poi tutti positivi perché in un caso guadagni il bonus in un caso guadagni la performance del sottostante che è superiore al bonus in un altro caso incassi il cap e quindi l'investitore è sicuramente contento se invece la barriera è stata violata ecco che allora abbiamo che il certificato perde la protezione il certificato diventa un replicante della performance del sottostante e rimborsa appunto quella che è la performance del sottostante quindi si applica la formula che abbiamo già visto prezzo finale del sottostante diviso il prezzo iniziale del sottostante che ripeto è lo strike moltiplicato per 100 un esempio di bonus cap con un cap e un bonus con due livelli diversi di prezzo è questo con sottostante il titolo intesa vedete qui abbiamo tutte le caratteristiche del prodotto vedete abbiamo un bonus a 118 e abbiamo un cap a 136 vedete che sono due livelli di prezzo distinti quindi il certificato vedete che può pagare livelli diversi di prezzo poi abbiamo la terza tipologia che è quello dei bonus che si caratterizzano per non avere il cap quindi fondamentalmente sono una tipologia a parte rispetto differente non a parte differente con caratteristiche differenti rispetto a quelli che abbiamo appena descritto questa è la struttura grafica sempre con il sottostante l'andamento del bonus ma possiamo un attimo descriverli in questo modo giusto per capirne un attimo le caratteristiche stiamo sempre parlando di un certificato che sebbene non abbia il cap ha comunque sempre la barriera barriera che è comunque attiva ogni giorno di vita e certificato quindi una barriera continua intraday anche in questo caso il certificato lo possiamo comprare e vendere prima della naturale scadenza ma ipotizziamo in questo caso di portare a scadenza anche qui abbiamo i due scenari l'evento barriera non si è verificato l'evento barriera si è verificato a questo punto quali sono le declinazioni partiamo dalla prima la barriera non è mai stata toccata quindi l'evento barriera non si è verificato il certificato quindi mantiene la protezione e quindi il nostro certificato che cosa fa rimborserà 100 più bonus attenzione può capitare anche che attenzione non ho specificato un dato la barriera non è stata violata però il sottostante alla scadenza del certificato ha una quotazione superiore alla barriera e contemporaneamente però inferiore al bonus in questo caso si paga il bonus nell'altro caso l'altra situazione la barriera non è mai stata violata ma scadenza il sottostante ha una quotazione superiore al bonus ecco che a questo punto il certificato che cosa fa pagherà la performance del sottostante che vuol dire pagherà un valore superiore al bonus in questo caso non c'è il cap e quindi il prezzo che viene rimborsato da questo prodotto può essere anche potenzialmente molto elevato nell'altro caso invece la barriera è stata violata ecco che allora di conseguenza siamo di fronte a un certificato che ha perso la protezione il certificato comincia a seguire in modo lineare la performance del sottostante e si applica la formula che abbiamo visto prima prezzo finale diviso prezzo iniziale del sottostante moltiplicato per 100 queste sono le caratteristiche di bonus senza cap quindi un guadagno potenzialmente illimitato potenzialmente ovviamente perché ha una scadenza certificata però tecnicamente sulla carta è quello questo è un esempio di sottostante in cui vedete c'è il bonus ma non c'è il cap lo vedete anche da qui vedete questo è là il dettaglio questo è un certificato scritto sul sottostante fiat ovviamente messo da fontobel vedete abbiamo uno strike abbiamo un bonus un 110 e 76 ma non abbiamo vedete un cap abbiamo ovviamente la barriera che è continua quindi le caratteristiche ci sono tutte vedete lo strike poi la barriera la barriera continua il bonus ma non abbiamo il cap in questo caso quindi se il sottostante non tocca la barriera durante la vita il certificato e a scadenza un livello superiore al bonus in questo caso non c'è un cap che frena il rimborso e questo è il diciamo così la descrizione di quelle che sono le caratteristiche di questi prodotti a questo punto facciamo un passo avanti cerchiamo di capire come sono costruiti i certificati quindi cerchiamo di spacchettarli allora un certificato è uno strumento cartolarizzato che contiene al suo interno delle opzioni in base a quali tipologie di opzioni sono acquistate questo certificato avrà delle implicazioni che sono permette di sfruttare il rialzo del sottostante oppure permette di sfruttare il ribasso del sottostante oppure permette di percepire un'entrata periodica nel caso dei cash collect eccetera quindi a seconda della tipologia di strategia in strategie che viene costruita il certificato avrà delle caratteristiche diverse quindi quando voi acquistate un certificato state tecnicamente acquistando una strategia in opzioni quindi se noi prendiamo un certificato e l'apriamo immaginate che sia un ovino kinder aprite il vostro certificato che cosa trovate dentro trovate una strategia in opzioni quindi trovate delle singole opzioni che vengono combinate a vario modo dall'emittente o meglio ancora dallo strutturatore bisogna distinguere che cosa le caratteristiche del certificato questo è la scomposizione di un certificato bonus senza cap questa è la scomposizione di un certificato bonus cap e vediamo un attimo i dettagli se avessimo creato un cash collect o se avessimo creato un reverse bonus avremmo trovato delle strategie in opzioni delle opzioni scusate combinate diversamente da queste quindi la logica è se voi comprate un certificato state comprando una strategia in opzioni punto primo punto secondo a seconda della strategia rialzista ribassista o a erogazione di cedole troverete delle strutture diverse quindi non è che c'è un'unica struttura all'interno di ogni certificato ma secondo le caratteristiche del certificato avrete strutture ad hoc nel caso dei certificati bonus la struttura è molto semplice per andare a costruire un certificato bonus senza cap dobbiamo acquistare due opzioni una è una call quindi un'opzione rialzista e una l'acquisto di una seconda opzione che è una put che è un'opzione ribassista la prima opzione da acquistare vedete è un'opzione call che si caratterizza per avere strike zero questo comporta che ogni movimento cioè rialzo oppure ribasso del sottostante si riflette in modo lineare sul valore dell'opzione la seconda opzione che anche in questo caso viene acquistata quindi in questo caso per cercare costruire un certificato bonus abbiamo l'acquisto di due opzioni una call con strike zero e una seconda opzione in questo caso put con la caratteristica che questa opzione put è down e out qui ho scritto down scusate è un errore e down and out e con uno strike pari al livello del bonus e con un livello di knockout uguale al livello della barriera quindi se la barriera viene toccata vuol dire che il valore della nostra opzione si azzera fondamentalmente quindi comprando un'opzione call con strike zero e comprando contemporaneamente un'opzione down and out con strike pari a livello di bonus ecco che noi riusciamo a creare un certificato bonus se invece vogliamo aggiungere il cap a questo certificato alle due opzioni che abbiamo già acquistato e descritto in precedenza quindi l'opzione call con strike zero e l'opzione acquistata sempre put down and out dobbiamo aggiungere una terza opzione un'opzione call ma attenzione in questo caso l'opzione viene venduta quindi la terza opzione che viene inserita è una call con strike pari al cap ma in questo caso viene venduta dall'unione vedete di queste tre opzioni si crea un certificato che ha una struttura rialzista perché i bonus hanno questa struttura rialzista ma con un cap quindi con un tetto alla cifra che viene rimborsata dal possessore del certificato quindi vedete se voi comprate un certificato state comprando una strategia in opzioni a seconda della tipologia delle caratteristiche di opzioni che questo prodotto contiene abbiamo vedete delle declinazioni diverse compro una call e compro una put ottengo un bonus compro una call compro una put e vendo una call ottengo un bonus cap qui scusate c'è un refuso ho messo bonus in realtà dovevo aggiungere cap adesso poi considerate che queste slide ve le mando e quindi anzi magari le possiamo anche correggere al volo così siamo sicuri che non ci sono criticità quindi andiamo un attimo a correggerle quindi qua è down qua di nuovo down e qua ci mettiamo ok scusate questo refuso ma a volte ok dicevo queste slide io e Francesca ve le mandiamo vedete se mi mandate una mail a g.bellelli at bellelli.biz oppure la mandate direttamente a Francesca queste slide ve le mandiamo le ho anche corrette quindi mandiamo le slide corrette ok una volta che noi abbiamo scoperto che un certificato è una strategia in opzioni allora a questo punto si pone una domanda ma qual è o meglio quali sono le variabili che determinano l'andamento del prezzo di un bonus di un certificato se il prezzo se un certificato è composto da opzioni ovviamente di conseguenza le variabili che influenzeranno e che determineranno l'andamento del prezzo di un certificato saranno le variabili che influiscono su che cosa sui singoli componenti cioè sulle singole opzioni quindi adesso cercheremo di capire le quali sono in generale le variabili e ognuna di queste come incide sul prezzo di un certificato allora le variabili sono vedete numerose sono il prezzo del sottostante cioè cosa fa il sottostante sale scendo rimane fermo prima variabile quella che hanno tutti in mente quindi la classica idea è il sottostante è destinato a salire o meno ritengo io investitore che il certificato sia destinato a salire quindi compro un certificato bonus perché anche lui salirà e sono convinto che se che ci sarà una replica esattamente identica del sottostante non è esattamente così perché perché oltre alla caratteristica prezzo del sottostante abbiamo altre caratteristiche cioè la volatilità del sottostante abbiamo il tempo inteso come vita residua che resta al certificato da vivere abbiamo i tassi di interesse abbiamo i dividendi attesi abbiamo la valuta questo è un evento in realtà che andrebbe messa tra parentesi perché perché non tutti i certificati sono scritti su sottostanti in valuta estera quindi se io compro un bonus cap su un titolo come non so Atlantia Enel il Fuzzimib che sono tutti strumenti denominati in euro ovviamente il rischio valuta questa variabile non l'abbiamo perché lavoriamo in euro che è la nostra valuta di riferimento se invece il sottostante dovesse essere un titolo che so americano oppure una materia prima quindi prodotti che sono denominati in valuta estera ecco che anche la variabile valuta avrebbe un peso ovviamente nell'economia del prodotto quindi sarebbe una variabile che determina il prezzo cerchiamo però di capire nel dettaglio queste variabili come incidono allora partiamo dalla prima variabile allora in realtà di queste tre variabili vedete qui non ho messo la variabile valuta perché ad oggi se non erro Fonto ve l'hai messo principalmente prodotti in euro quindi la variabile non c'è se però ci sono prodotti in valuta estera denominati ci sarebbe da inserire anche quella comunque dopo la descriviamo quindi in questa tabella non c'è quella variabile ma tecnicamente potrebbe esserci se il sottostante è in valuta estera le principali tre variabili in realtà sono prezzo del sottostante volatilità e tempo intesa come vita riscita queste sono le tre variabili principali poi si aggiungono le altre due che hanno un loro peso anche loro in determinati casi ma le due principali le tre principali sono prezzo volatilità e tempo partiamo dalla prima partiamo dalla dalla componente prezzo ora in questa tabella come si legge si legge nel seguente modo se aumenta la variabile cioè in questo caso se aumenta il prezzo del sottostante qual è l'effetto sul prezzo del certificato vedete c'è una freccia verso l'alto vuol dire che è positivo quindi tecnicamente un aumento del prezzo del sottostante corrisponde a un rialzo quindi a un effetto positivo sul prezzo dei certificati bonus e bonus cap quindi in pratica l'aumento oppure seconda caratteristica la stabilità del prezzo del sottostante forniscono un contributo positivo al prezzo del certificato prezzo del certificato che tenderà a crescere dal momento che o l'aumento del prezzo o la sua stabilità di prezzo rendono meno probabile che cosa? Il verificarsi dell'evento barriera per un effetto molto banale se il prezzo resta fermo la distanza della barriera resta uguale se il prezzo sottostante addirittura aumenta ovviamente in questo caso aumenta anche la distanza della barriera quindi si rende più difficile l'evento barriera quindi se il prezzo è stabile oppure aumenta la parte del sottostante c'è un effetto diretto positivo sul prezzo del certificato che tenderà a crescere attenzione a un dato l'incidenza dell'aumento del prezzo del sottostante varia però in funzione di quella che è la vita residua del sottostante quindi del tempo che manca a scadenza nel dettaglio come possiamo leggere questo dato possiamo leggerlo nel seguente modo cioè la sensibilità del prezzo del certificato all'aumentare del prezzo del sottostante sarà maggiore quando il certificato è vicino alla data di scadenza mentre al contrario sarà minore come sensibilità di prezzo quando la scadenza è ancora lontana questo è un dato da conoscere oltre all'incidenza del prezzo del sottostante varia no lo dico in altre parole allora l'incidenza dell'aumento del prezzo del sottostante varia anche in funzione della distanza della barriera quindi non solo della vita residua ma anche della distanza della barriera in questo caso minore è la distanza dalla barriera e maggiore sarà la sensibilità del prezzo del certificato e quindi sono vedete tutti i dati che occorre considerare quindi prima variante è prima variabile scusate è il prezzo del sottostante se il prezzo resta stabile o addirittura aumenta il prezzo del certificato tende ad aumentare però attenzione questa percentuale di prezzo che tende ad aumentare da parte del sottostante dipende abbiamo detto dalla vita residua del certificato e dalla distanza dalla barriera questi dati sono da tenere in mente questo è un dato importante dopo abbiamo la la seconda variabile che è quella della volatilità del sottostante qui abbiamo due scenari in realtà se si è verificato l'evento barriera oppure se non si è verificato l'evento barriera allora se l'evento barriera non si è verificato l'aumento della volatilità del sottostante incide negativamente sul prezzo del certificato che tenderà a depreciarsi dal momento che se aumenta la volatilità aumenta di conseguenza anche la probabilità che si possa verificare l'evento barriera la riduzione della volatilità al contrario ha un effetto positivo sulle quotazioni invece del certificato che tenderà ad apprezzarsi attenzione a un dato l'incidenza della volatilità del sottostante varia anche in questo caso in funzione della vita residua del certificato nel dettaglio la sensibilità del prezzo del certificato rispetto alla volatilità del sottostante sarà maggiore nel momento in cui la scadenza è lontana perché aumenta il rischio che si possa verificare appunto l'evento barriera al contrario invece in prossimità della scadenza del certificato l'incidenza della volatilità tende a essere inferiore e cos'altro dire ah occorre inoltre segnalare che la volatilità ha un impatto maggiore nel caso dei certificati bonus cap quindi quelli che presentano un cap qual è il motivo il motivo è semplice se l'aumento della volatilità si declina in un sensibile aumento del prezzo del sottostante tale da superare il cap il certificato cosa fa comunque rimborsa al massimo il cap e questo significa che il rialzo del prezzo del sottostante non si è tradotto in un aumento del rendimento del certificato spero di essermi spiegato perché sono tecnicismi raffinati che magari magari al primo ascolto possono essere complicati però questo webinar è registrato e quindi magari poi riascoltandolo riuscite a percepire tutte le finezze allo stesso tempo se l'aumento della volatilità invece si declina in un sensibile diminuzione del prezzo del sottostante tale da comportare la violazione della barriera ovviamente invece si verifica una ripercussione diciamo così diretta e negativa sul prezzo di conseguenza poi sul rendimento del certificato questo è il primo scenario cioè non si è verificato l'evento barriera queste sono le implicazioni della volatilità se invece parliamo sempre di volatilità ma si è verificato l'evento barriera allora che cosa succede? beh il certificato bonus abbiamo detto che in quel caso diventa un mero replicante della performance del sottostante in questa fattispecie quindi cosa succede? che la variazione della volatilità non impatta sul prezzo e sul rendimento del bonus che si vede violata la propria barriera solo nel caso del certificato bonus cap dal momento che è presente appunto il cap allora la volatilità mantiene almeno un minimo di incidenza sebbene questa incidenza sia comunque limitata in questo caso un aumento della volatilità un piccolo effetto negativo quindi una diminuzione del prezzo del certificato bonus cap lo produce questo è quanto riguarda il discorso volatilità dopo c'è il discorso tempo tempo inteso come vita residua cioè quanto manca la scadenza del certificato per dirlo in modo grezzo ma giusto per capirsi allora generalmente il trascorrere del tempo che cosa fa? quindi l'avvicinarsi della scadenza sostanzialmente fornisce un contributo positivo al prezzo del certificato che tenderà a crescere dal momento che sarà progressivamente meno probabile che si verifichi l'evento avverso cioè l'evento barriera ovviamente questo vale in un contesto in cui il prezzo del sottostante sia o stabile e quindi laterale oppure che si muova nella direzione ospicata che è quella rialzista perché i bonus hanno questa struttura rialzista al contrario invece se la tendenza dei prezzi del sottostante è ribassista quindi è opposta rispetto all'aspettativa che ha l'investitore quando compra questo certificato ecco che invece al contrario in questo caso che il sottostante va dalla parte sbagliata diciamo così il trascorrere del tempo che cosa fa? riduce il prezzo delle opzioni acquistate per cui tende a risentire ovviamente il prezzo del sottostante scusatemi il prezzo del certificato tende a risentire negativamente di questo effetto la presenza di una barriera oppure di un cap in genere consente all'investitore quindi di essere esposto positivamente al trascorrere del tempo quindi il tempo generalmente fornisce un contributo positivo al certificato se il sottostante è stabile o crescente al contrario invece il discorso è differente poi abbiamo le altre variabili abbiamo detto la valuta che incide perché se il certificato è denominato in valuta estera ovviamente questa ha una sua incidenza il cosiddetto rischio prezzo se vogliamo attenzione a un dato i certificati possono essere anche della tipologia quanto quando un certificato contiene l'opzione quanto significa che fondamentalmente il certificato presenta al suo interno un meccanismo di protezione del cambio valutario per cui di conseguenza i certificati non sono soggetti alla variabile cambio valutario anche se effettivamente il sottostante è denominato in valuta estera in realtà il discorso sulla valuta sarebbe anche più complesso perché occorre fare riferimento anche alla dinamica dei tassi di interesse tra la zona euro la zona in cui è denominata la valuta sottostante eccetera ma sarebbe un po' un caos riuscire a fare tutte le casistiche soprattutto in un webinar come quello di oggi che ha un tempo limitato e soprattutto vuole essere diciamo così comprensibile anche alla casalinga di Voghera quindi non entriamo troppo nei dettagli però il dato è quello se il sottostante valuta estera è una variabile che incida a meno che il certificato non sia quanto quindi non contiene al suo interno un meccanismo di diciamo così copertura del cambio poi le altre variabili sono i dividendi altra variabile interessante da analizzare in genere cosa succede? succede che un aumento del dividendo comporta un contributo negativo quindi un ribasso del prezzo del certificato vedete la freccetta rivolta verso il basso partiamo da un presupposto che chi acquista un certificato e della tipologia bonus ma in generale questo vale per tutti i certificati rinuncia che cosa? rinuncia a incassare i dividendi erogati dal sottostante i dividendi che verranno percepiti dallo strutturatore che li utilizzerà appunto per costruire il certificato quindi in quest'ottica possiamo dire che il prezzo del certificato alla sua emissione incorpora già tutta quella che è l'informativa disponibile riguarda quella che è la distribuzione ordinaria di dividendi futuri il problema del dividendo si pone quando il quindi se il flusso dei dividendi futuri resta immutato rispetto al momento della scadenza alla creazione del certificato scusate allora di fatto non ci sono ripercussioni sul prezzo del certificato al contrario invece se durante la vita del certificato aumenta l'ammontare del dividendo atteso ecco che allora in questo caso il certificato ne risente negativamente dopodiché c'è la variabile tassi di interesse questa è una variabile che influisce il prezzo di un certificato però in misura minore rispetto alle variabili che abbiamo descritto prima come prezzo volatilità e tempo e in genere si declina diciamo così in modo differente a seconda delle caratteristiche del certificato in linea generale possiamo affermare che l'aumento dei tassi di interesse tende ad avere comunque un contributo negativo al prezzo a fornire un contributo negativo al prezzo del certificato quindi il certificato tende a depreciarsi in corrispondenza di un generale aumento dei tassi di interesse queste sono le variabili le variabili principali ripeto sono prezzo volatilità e tempo ripeto il discorso è leggermente complesso per chi lo sente la prima volta dopo che invece l'avete metabolizzato diventa molto molto semplice però vi consiglio di ascoltare il webinar un paio di volte in modo tale che riuscite a focalizzare tutti questi elementi dopodiché c'è il classico dilemma ma qual è l'ambito di utilizzo dei certificati della tipologia bonus beh i certificati bonus li abbiamo descritti in modo sintetico nella prima slide abbiamo detto che sono una tipologia di certificati che permette all'investitore che li possiede di guadagnare in caso di rialzo del sottostante in caso di andamento laterale del sottostante oppure in caso di moderato ribasso cioè entro il limite della barriera del sottostante quindi è come giocare una tripla al totocalcio non è proprio una tripla in realtà perché c'è il limite della barriera però diciamo che è uno strumento che ci si avvicina vediamo un attimo di entrare nei dettagli di ciascuno di questi di questi tre ambiti giusto per capire qualcosa in più allora partiamo dall'ambito centrale partiamo dalla congestione quindi dal movimento laterale dei prezzi no allora immaginate uno scenario di due fratelli uno che compra direttamente il sottostante e uno che compra invece il certificato ovviamente sempre della famiglia bonus quali saranno i risultati dell'uno e dell'altro andiamo a cercare di capire allora cerchiamo di capire partendo da cosa succede in caso di andamento laterale del certificato quindi se durante la vita del certificato il prezzo del sottostante oscilla ma fondamentalmente rimane invariato e quindi resta fondamentalmente uguale ai valori iniziali quindi il prezzo di strike iniziale rimane uguale al prezzo finale o meglio il contrario il prezzo finale cioè a scadenza del certificato è più o meno simile con il prezzo dello strike cioè del prezzo del sottostante al momento in cui il certificato è stato creato ecco in questo caso il fratello che ha comprato direttamente il sottostante fondamentalmente non ha guadagnato nulla i due prezzi sono fondamentalmente equivalenti e quindi nell'arco del tempo non ha guadagnato niente al contrario invece il fratello che ha acquistato il certificato ovviamente ipotizzando che non si sia verificato l'evento barriera incassa il bonus quindi il fratello che ha percepito che ha acquistato il certificato che non è andato barriera a scadenza rimborsa il bonus e quindi di conseguenza ottiene un guadagno mentre l'altro fratello più o meno fa pari e parta quindi in un scenario di congestione laterale dei prezzi il certificato è premiante rispetto all'acquisto del sottostante al contrario di no al contrario no invece nello secondo scenario quello ribassista che cosa succede? beh il fratello che compra direttamente il sottostante subisce una perdita non c'è dubbio che il sottostante perde il 5% il 10 il 20 il 30 il 40 quello che è il possessore dell'azione o comunque del sottostante in modo diretto incassa esattamente la performance negativa in questo caso del sottostante al contrario invece il fratello che ha acquistato il certificato fondamentalmente ha due scenari davanti se non si è verificato l'evento barriera perché i prezzi si sono scesi ma non da toccare la barriera ecco che il fratello ha guadagnato perché ha incassato 100 più il bonus se al contrario invece si è verificato l'evento barriera beh alla fine il certificato replica negativamente la performance del sottostante quindi fondamentalmente è uguale da questo punto di vista l'andamento dei due fratelli in caso di scenario rialzista invece che cosa succede? beh qui bisogna distinguere da quanto aumentano i prezzi quindi dipende primo dall'entità del rialzo del sottostante secondo dipende dal fatto che il certificato ha oppure non ha un cap allora in linea generale possiamo affermare che se il sottostante aumenta di prezzo ma l'aumento di prezzo determina comunque una quotazione a scadenza del sottostante inferiore rispetto al valore del bonus che cosa succede? succede che investendo direttamente nel sottostante si sarebbe ottenuto un guadagno come più basso quindi inferiore rispetto a quello del certificato che invece in quel caso paga il bonus quindi se il rialzo c'è da parte del sottostante ma è inferiore al bonus tra i due fratelli di prima chi ha acquistato il certificato incassa il bonus e quindi incassa un guadagno maggiore rispetto all'altro fratello entrambi guadagnano in questo caso però chi ha comprato il certificato guadagna qualcosa in più rispetto all'altro ovviamente ipotizzo sempre che non si sia verificato l'evento barriera questo lo davo per scontato ma è sempre meglio specificarlo nel caso in cui invece il certificato abbia un cap bisogna vedere da quanto è elevata l'entità del sottostante cioè se il sottostante ha avuto un forte chiamiamolo così rialzo di prezzo quindi importante in termini percentuali allora in questo caso il certificato che ha un cap che cosa succede? succede che chi possiede direttamente il titolo quindi che ha comprato direttamente sottostante percepisce tutto questo forte rialzo mentre invece chi ha il certificato con un cap guadagna ed è contento ma entro il limite del cap perché il certificato ha un rimborso massimo se invece il certificato non ha un cap ovviamente la storia è diversa eccetera quindi vedete che gli ambiti di utilizzo dei certificates sono numerosi scenario rialzista laterale e moderatamente ribassista per cui possono essere un'alternativa interessante all'acquisto diretto del sottostante poi nel prossimo webinar come dicevamo allora avremo la possibilità di entrare nel dettaglio delle strategie operative oggi è un argomento che non riuscivamo a condensare in questo webinar ma troveranno comunque spazio nel prossimo giusto per chiudere il ciclo di questi webinar dove abbiamo conosciuto prima le caratteristiche dei certificati in generale poi abbiamo oggi approfondito le caratteristiche dei bonus e la prossima volta vedremo le strategie operative da applicare ai certificati io avrei concluso Francesca perfetto allora direi ricordo giusto un'ultima cosa a tutti i nostri clienti abbiamo una serie di newsletter incluso le newsletter per la nuova emissione quindi ogni volta che c'è una nuova emissione di certificati potete iscriverli via alla newsletter per conoscere tutti i nuovi prodotti che vengono emessi e quindi magari anche acquistarli nel caso nei giorni in cui appunto saranno più o meno al valore nominale quindi quotati sui 100 euro abbiamo anche altre newsletter l'idea di investimento il focus del consulente dedicata ai mega trend di investimento quindi a tutti i tracker e certificati strategici la nostra weekly note dedicata diciamo più all'ambito macro e investi b che è il nostro programma tv dove ogni giorno si sfidano due trader dando dei segnali operativi sui sottostanti dei certificati fontobel vi ricordo che siamo sempre disponibili abbiamo un sito certificati.fontobel.com dove trovate tutti i prodotti siamo sempre disponibili sia al numero verde 800 798 693 che anche la nostra mail certificati chiocciola.optobel.com direi Gabriele vedo che ci sono ancora domande magari rispondiamo direttamente via mail e nel prossimo webinar per ogni ulteriore domanda potete scriverci direttamente sulla mail certificati chiocciola.optobel.com io Gabriele ti ringrazio ancora una volta per questo webinar sono veramente in attesa del prossimo del 18 dicembre ore 11 e ti ringrazio e ti auguro una buona giornata grazie mille anche a te grazie mille anche a tutti quelli che mi hanno seguito buona giornata a tutti ovviamente grazie mille grazie mille